Siamo qua a parlare di Nord America, di mercato automotive, una filiera veramente importante e per il nostro paese è una delle colonne portanti del prodotto interno lordo e in seno a quello che è l'impegno delle associazioni industriali verso le associate abbiamo organizzato questo momento di approfondimento, di conoscenza, di scambio di B2B con i player sia gli OEM che le aziende che spesso fanno anche fatica a farsi conoscere su mercati internazionali e internazionalizzati. Anche l'esperienza nostra del gruppo Streparava in seno a quello che è l'internazionalizzazione è un'esperienza che ci dice che il nostro paese deve spingere perché la competenza, le capacità industriali la capacità di essere competitivi le abbiamo e le dobbiamo solo far conoscere i nostri potenziali clienti.